Musica Bene bentornati in diretta, allora iniziamo subito questa nuova puntata di Primo Cittadino Ospite e Sindaco di Terre Roveresca Antonio Sebastianelli, bentornato Grazie Simona, grazie a tutti quelli che ci ascoltano e soprattutto ci vedono su Fanno TV E possono anche parlare direttamente con lei, telefonandolo 0721 86 14 33 Oppure potete inviarci un messaggio, meglio se con Whatsapp al 338 49 68 250 Se lei d'accordo io partirei subito con la questione dei rifiuti, quindi il biodigestore Anche perché ormai si aspetta una terza conferenza di servizi, quali sono gli ultimi passaggi? Ci sarà, no sicuramente, senza sicuramente, ci sarà un'altra conferenza dei servizi Inizia la seconda si è svolta il 27 di ottobre, come avete visto anche sulla stampa Insieme già al parere contrario di questo comune, insieme ai comuni di Mondavia e di Fratterosa Anche la provincia col servizio viabilità ha espresso un parere contrario a quello che è sfavorevole Per quello che concerne la viabilità Ci sarà una prossima conferenza che sarà presumibilmente l'ultima Non sappiamo ancora quando, perché chiaramente prima deve essere inviato il verbale di quella che è stata l'ultima conferenza E soprattutto devono essere anche inviate la risposta alle osservazioni che gli enti e anche il comitato e i cittadini hanno fatto su questo progetto E poi capire se si farà o meno a barchi Nel frattempo avete ricevuto, adesso vediamo subito anche una fotografia Il Cresco Award per la tariffa dei rifiuti, eccola qua, che viene calcolata in base alla CO2 Quindi siete il primo comune sostenibile nella fascia demografica 5-10 mila abitanti Quando è andato a ritirare questo premio? Sono stato giovedì scorso, era durante l'assemblea ANCI che era a Parma Quindi in questo avenue, insieme a tanti altri sindaci c'era anche questo momento E' importante e anche molto gratificante, ma non solo per l'amministrazione, soprattutto per i cittadini Perché il risultato che si è raggiunto è grazie all'efficienza, alla volontà e alla buona volontà di tutti i nostri cittadini Quindi è un premio che ulteriormente va a rafforzare quello che è il progetto che noi abbiamo già avviato l'anno scorso Della tariffazione puntuale basata sulla misurazione di quanta CO2 ogni utenza, quindi ogni famiglia, ogni azienda produce nel nostro territorio Quindi in base a questa viene calcolata la tariffa e i risparmi che noi abbiamo Che vengono da un'economia sul servizio, quindi minori smaltimenti E soprattutto dalla vendita dei crediti della CO2, perché questi hanno un mercato importante L'anno scorso abbiamo, tra virgolette, ridotto l'impatto delle terre roveresche per quanto riguarda la CO2 Quindi ecco, anche qui è un segno verso quello che è la COP26, il protocollo di Kyoto, oggi il protocollo di Glasgow E quindi ecco, abbiamo risparmiato 3.000 tonnellate di CO2 nel 2019 Perché chiaramente la CO2 si riferisce all'anno scorso, al 2020, ovviamente Ne abbiamo risparmiato il 2005, quindi questo è un sistema innovativo in tutta Italia e in tutta Europa Perché appunto va a, non solo a valutare e quantificare gli svuotamenti del secco indifferenziato Ma anche delle altre frazioni, quindi la plastica, la carta, l'organico Quindi è un comune virtuoso, un ottimo risultato Virtuoso, sì, è un bellissimo risultato Continueremo su questo percorso, perché la nostra idea, chiaramente se poi questa amministrazione ci sarà anche per il prosieguo Perché chiaramente il prossimo anno si va a votazione e quindi poi dopo i cittadini sceglieranno chi si presenterà E con il loro programma, quindi ecco, l'idea è di continuare e di diventare il più autosufficienti possibili Quindi significa che per tante nostre frazioni, a parte il secco indifferenziato Vogliamo diventare, sganciarci da quelli che sono oggi i posti, le aziende dove andiamo a smaltire per esempio l'organico Quindi è un progetto che ancora va avanti e si arricchirà di tanti altri tasselli Sempre nell'interesse di abbassare la tariffa dei nostri cittadini Perché, ripetiamo, questo è importante Il fatto di avere un risparmio in CO2 permette ai cittadini, ai nostri cittadini Di avere un risparmio che vedranno nel saldo che riceveranno il prossimo anno di 20.000 euro Che ripartiremo su tutte le utenze più virtuose, chiaramente Ecco, a proposito, anche per l'Atari, le hanno annunciato 117.000 euro di sconti per le famiglie e attività Ma in questo caso non sono collegate al risultato ottenuto qui? No Perché questo va a incidere appunto sul 2022 Questo qui è uno sconto che noi diamo sui comportamenti virtuosi delle utenze Invece il bando che uscirà tra pochi giorni Perché l'inizio della prossima settimana avremo un consiglio importante Con una variazione di bilancio che sfiora i 300.000 euro Quindi per un comune di 5.000 abitanti è una variazione comunque molto significativa E lì andremo ad approvare i criteri per ripartire questo fondo di 70.000 euro Per le attività, questo qui va alle attività, che hanno avuto dei problemi e alle associazioni dovute al Covid Poi già abbiamo dato una serie di sconti che non sono legati alla CO2 ma sono legati ad altre condizioni Quindi per esempio chi si impegna per la cittadinanza, chi ha unese basso, famiglie numerose eccetera Quindi ecco, tante scontistiche E quindi questi 117.000 euro che dicevi tu riguardano una sfera Invece la CO2 va a premiare i cittadini e le aziende chiaramente più virtuose E avete confermato però anche i contributi per i nuovi nati Anche quello, in versione un po' più ridotto perché chiaramente abbiamo dovuto dare come si chiama un decalage Quindi l'abbassiamo un pochettino però continuiamo a confermarlo come continueremo a confermare anche il contributo Quello sulla prima casa d'abitazione Allora, intanto le dicono complimenti per il bel campo da tennis a San Giorgio Sì Poi per il biodigestore chiedono, ma ne abbiamo parlato poco fa in apertura di questa puntata Enrico le fa tre domande, intanto gliele pongo una E andiamo sempre qua Copertura e impianto tennis Una banca locale ha già stanziato un importo a fondo perduto pari al 50% della spesa relativa alla copertura Di un campo da tennis al centro sportivo Canneti di Orciano sulla base di una richiesta dell'amministrazione del 2019 Questo importo continua, è stato determinato da preventivi che il circolo ha legato alla richiesta Ed è stato stanziato l'importo 18 mesi fa ma ancora è giacente Ci sono dei progetti che vadano a sostegno di questa iniziativa già avviata? Rispondiamo al nostro amico Enrico che saluto, che fa parte del circolo tennis di Orciano Sì questa somma che è stata stanziata in più annualità, quindi non è un'annualità sola Quindi mi sembra che in quattro annualità viene dato questo contributo da una banca locale che è la BCC del Metauro Insieme ad altre richieste che l'amministrazione ha presentato Del quale ancora stiamo aspettando una risposta Perché chiaramente poi in base alle richieste fatte poi l'amministrazione investirà Come abbiamo già detto a questa associazione probabilmente il Comune può anche investire in maniera diretta Perché gli investimenti sono fatti dal Comune Perché la nostra prerogativa, la nostra idea è che l'amministrazione fa gli investimenti sulle strutture E poi dopo associazioni come questa possono gestirlo Quando inizierà invece ad essere operativa l'ambulanza 118 al centro salute promossa Anzi promessa qualche anno fa dalla vecchia amministrazione regionale Per rafforzare il sistema di emergenza del nostro territorio Allora siamo alle battute finali perché poi dopo mancavano gli infermieri Perché questa è un'ambulanza H24 Quindi per forza richiede personale che sia dipendente dell'ASUR Quindi non può essere fatta col volontariato eccetera Quindi poi complice il Covid ha rallentato tutto Perché poi sapete l'emergenza che questa regione in maniera particolare vive Per quanto riguarda infermieri, medici di base, guardia medica e compagnia Dovremmo essere alle battute conclusive perché è stato scelto il gestore Quindi può essere la croce blu, la croce azzurra o gialla chi sarà È stato già scelto, mi hanno detto E questi giorni dovremo stipulare il contratto d'affitto con ASUR Perché l'accordo con l'amministrazione regionale di allora Che chiaramente è tuttora vigente, tuttora in vigore È quello che l'amministrazione comunale metteva a disposizione i locali Mentre la regione Marche si preoccupava chiaramente dell'ambulanza Quindi dovremo stipulare a breve il contratto di comodate Quindi poi io spero di fare anche alle comunità, non solo a Terre Roveresche Ma anche a tutte le comunità vicine, questo regalo di Natale Certo, e invece per i medici di base da voi al momento non ci sono problemi? Per i medici di base al momento non abbiamo situazioni di criticità Perché nel passato un pensionamento ha messo un po' in difficoltà questo servizio a barchi Però grazie all'aiuto e alla volontà di altri medici di base che già operano sul territorio E al fatto che l'amministrazione ha messo a disposizione un locale in piazza barchi Siamo riusciti a superarlo Poi abbiamo un altro medico di base a piagge Quindi tutto sommato la situazione al momento non è in emergenza Bene, per il ponte Metauro di Cerbara Può fare pressione sulla provincia per la manutenzione Visto che il divieto di mezzi pesanti penalizza anche i camionisti del suo comune? Cercherò insieme ad altre sollecitazioni che faccio di solito Insieme a me e anche tanti altri sindaci di questo territorio Sulle strade provinciali perché chiaramente l'attenzione deve essere sempre alta La faremo di nuovo anche per il ponte di Cerbara Viabilità, il nostro territorio è al centro di Due Vallati, Metauro e Cesano Un'adeguata e rinnovata rete stradale potrebbe mettere però il nostro territorio al centro di Due Valli Un importante volano socio-economico Ci sono progetti o anche idee relative a questo progetto? I progetti ce ne sarebbero tanti, solo che dobbiamo fare un distinguo perché la maggior parte di queste arterie Sono arterie provinciali, quindi dove deve investire la provincia non è che può investire il comune Il comune dove è possibile e dove ha fatto e continua a fare Va a fare la manutenzione e il ripristino di tante strade comunali Quindi proprio nostre, di proprietà del comune Su quelle della provincia possiamo mettere a disposizione il supporto Ma non certo possiamo investire su tante arterie che avrebbero bisogno Quindi io spero che adesso a breve si rinnoverà anche il consiglio provinciale Perché le elezioni provinciali sono il 18 di dicembre Però spero che si vada in quella direzione anche utilizzando i fondi del PNRR Di cui tanto se ne parla per investire in maniera massiccia Perché una certa parte di questa provincia, specialmente quella sulla vallata del Cesano Quella forse che si affaccia più verso il mare Ha bisogno di interventi importanti, di un piano Marshall per le strade Abbiamo una telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea Buonasera Ci sente? Pronto? Eccoci qua, buonasera Pronto? Sì, noi ci siamo Innanzitutto grazie a Simona, sono Remo da Barca Grazie a Simona per l'apporto che ci ha dato per riaprire l'ufficio postale Allora caro Antonio vedo che stai sorridendo Solo due cose Innanzitutto riaprire almeno un ufficio al municipio perché ce l'hai chiuso, serrato Quindi vorrei la conferma di questo E vorrei la conferma anche come tu allora dicesti presente anche a Simona Che portavi almeno la sede però, non solo un cappello dei vigili La sede definitiva dei vigili presso il municipio di Barchi Tutto qua, ciao e buon lavoro a tutti Grazie mille, grazie Allora l'ufficio non è serrato Abbiamo al momento, perché abbiamo fatto una serie di cambiamenti anche importanti Al momento a Barchi c'è un ufficio al piano terra dove il vigile è presente alcun euro durante la giornata Stiamo facendo i lavori perché il municipio va sopra, alcuni uffici vanno adattati per la polizia locale Quindi poi lì ci sarà la sede dei vigili più la sede di uno sportello polifunzionale sempre al piano terra Che aiuterà il cittadino per quelle che sono le necessità quotidiane Quindi questo era quello che si era detto, arriveremo Spero, non spero L'idea è di fare questa, un'altra, diciamo così Una piccola inaugurazione di questi nuovi uffici per il 18 di dicembre Probabilmente riusciremo anche ad anticipare Però perché stiamo lavorando in questi giorni Quindi ormai siamo alle battute finali E le ricordano anche il problema dei piccioni a Orciano Non è solo Orciano, abbiamo i piccioni a San Giorgio, al Poggio, a Virginieto Alto, eccetera Su questo giovedì che viene, prossimo avventuro Ho un appuntamento con una ditta specializzata Perché dovremmo fare un intervento abbastanza drastico Quindi catturarne il più possibile Poi ci sono delle ditte specializzate che se ne occupano Perché altrimenti è un problema complice in alcuni contesti Il fatto di avere parecchie case nei centri storici chiuse Quindi questi sono habitat, insomma, privilegiati per i piccioni Adesso andiamo a vedere i lavori pubblici Però vorrei leggerle quest'altro messaggio Buonasera Sindaco Purtroppo la nebbia si è presentata anche quest'anno E le nostre strade non hanno la segnaletica sufficiente per una buona visibilità Potrebbe provvedere o quantomeno sollecitare chi di dovere? Quello certamente perché alcune strade Qualcuna, forse anche comunale, manca di alcune parti di segnaletica Queste vere e provvederemo Altre sono quelle provinciali perché ormai le linee, quelle esterne, sono completamente sparite Quindi sì, faremo anche questo Bene, cominciamo allora Vediamo la regia che cosa ci propone Perché ci sono tante foto dalle strade ai marciapiedi, alle rotatorie Ecco qua Fanno parte di questo piano di asfalti che abbiamo lanciato anche quest'anno Sono più di 100.000 euro che abbiamo investito Siamo vicino a Montecucco, tra Montecucco e Orciano Quindi tra il municipio di San Giorgio e Orciano Un piccolo tratto Ma poi ce ne sono tanti altri, penso nelle foto Perché più o meno tocchiamo queste piagge intorno alle mura del castello Abbiamo completato l'asfalto Questo è sempre piagge, siamo Cerchiamo di toccare il più possibile tutti i municipi Questa è parte dell'illuminazione pubblica di barchi che piano piano stiamo cambiando, sostituendo E avete già pensato ad una futura lista? Quindi le strade prioritarie? Noi si stiamo sempre lavorando Alla fine quasi tutte sono prioritarie per noi Per noi c'è il cittadino di serie A o di serie B Chiaramente compatibilmente alle emergenze Però ci sono magari quelle più rovinate Beh chiaro, quella dove c'è maggiori problemi E oppure maggiori pericolosità sono quelle che forse facciamo per prima Ecco, questa è sempre una parte di barchi La nuova illuminazione a led Intorno al castello Qui siamo a San Bartolo Qui siamo a Schieppe Verso l'ingresso della superstrada Sempre a Schieppe Qui siamo a Rupoli Questo è il campo da tennis di Orciano Fatto recentemente a settembre Abbiamo terminato da poco anche quello di San Giorgio Dove possiamo investiamo in maniera massiccia Questa è la scuola di Monte Palazzino Inaugurata, risistemata A proposito di scuole Perché è stato approvato anche un progetto definitivo molto importante L'investimento per la realizzazione del plesso scolastico 0,6 anni Sembra piaggio Che ammonta a 2 milioni e 200 mila euro Di cui 1 milione e 936 mila euro a fondo perduto Grazie al piano di edilizia scolastico Questo è uno degli interventi Probabilmente il più importante e significativo Che questi quattro comuni hanno avuto Io penso negli ultimi 20 anni Ah ecco Sì In 1.400 metri quadrati E poi quali saranno? Questa è la scuola San Giorgio Che stiamo terminando L'ampliamento della scuola elementare Che abbiamo Che ospiterà anche la scuola media Dicevo sul polo 0,6 di Piagge Ospiterà i bambini delle scuole materne Dell'infanzia Pardon Che vanno nei municipi di San Giorgio E Piagge Verranno spostate lì Mentre gli altri ordini Quindi le scuole elementari Le scuole medie Verranno Sono già state spostate a San Giorgio E quindi ecco Questa era un po' L'idea di questa nuova configurazione Dicevo Il plesso Sarà un plesso Chiaramente Con i più alti livelli Di qualità abitativa Per l'educazione Chiaramente Fatto con le nuove tecnologie Sia dal punto di vista Del rischio sismico Ma anche Dell'impatto Sull'ambiente Insomma Il minore possibile Quindi ecco Abbiamo approvato Il progetto definitivo Stiamo Approntando in questi giorni Gli atti propedeutici Alla gara All'affidamento E quindi poi Procederemo E quindi Non escludo che Forse il prossimo anno Beh a primavera Forse anche prima Si inizierà A proposito di illuminazione Le chiedono Che fine ha fatto la ditta Che ha cominciato i lavori Appunto di illuminazione A Barchi Si è spostata Gli ha terminati La ditta che ha iniziato Parte dei lavori a Barchi Adesso sta facendo Altri lavori Poi dopo Sul tratto già fatto Dovremo Appena arrivano I corpi illuminanti Perché Abbiamo dei ritardi Veramente significativi Ma Questo dappertutto Quando si parla Soprattutto di materie prime Particolari Come i corpi illuminanti Che il 90% Vengono dalla Cina E quindi I prossimi giorni Poi continueremo Sempre con la stessa ditta Che continuerà A fare la nuova linea Sempre a Barchi Quindi Questo Parliamo di via Kennedy A Barchi Questa invece È un Via Leopardi A Barchi Sempre dove c'è Un parco pubblico Per bambini Questa è l'illuminazione nuova Qui manca ancora Qualche piccolo dettaglio Perché dobbiamo Insomma Tinteggiare I pali Dell'illuminazione Che vedete lì Le chiedono sindaco Il castello di Montebello Che fine farà? Il castello di Montebello Il comune Essendo ente pubblico Siccome il bene Vincolato Ha il diritto Di prelazione Come più volte Ho detto Noi lo eserciteremo Nel momento in cui La procedura Che è stata iniziata Che prevede Un'asta pubblica Un'assegnazione C'è un'azienda Di Roma Che ha fatto Un'offerta Quindi ha avuto L'aggiudicazione provvisoria Adesso loro hanno 120 giorni di tempo Per confermare Questa cosa Quindi pagare Il saldo Di questo prezzo Che è 470.000 euro Se lo pagano A quel punto lì Si attiva la procedura Quindi Prima la sopraintendenza E poi dopo Di conseguenza Cascata al comune Verrà chiesto La prelazione Quindi se lo vuole Acquistare A stesso prezzo Se la società Che se l'ha giudicato Chiaramente paga il prezzo Se non lo fa Perché è possibile Tante volte accade Si riparte da zero Quindi un altro bando Un'altra asta E si ricomincia da capo E si ricomincia da capo La procedura ormai è questa E quindi noi Aspettiamo Il nostro momento Quindi noi abbiamo Il diritto di prelazione Quindi quando è ora Lo eserciteremo Parliamo adesso Di un altro progetto Molto importante Che riguarda Una rotatoria Dovremmo avere anche Il rendering Eccola qua Questa andrà realizzata Tra Piaggio e Montemaggiore Ma c'è da dire Che avete ricevuto Ben 100.000 euro Di contributi Grazie a un bando regionale Sulla sicurezza Esatto Quindi siete stati Intanto bravi voi Come comune A partecipare Noi l'abbiamo progettata Internamente Perché abbiamo Un ufficio tecnico Attrezzato Quindi l'abbiamo fatta In casa Senza l'ausilio Di professionisti esterni E ringrazio Il nostro ufficio tecnico Per l'impegno Abbiamo ricevuto Un contributo Di 100.000 euro L'importo totale Dei lavori Sono 150.000 euro Quindi due terzi L'abbiamo Quindi c'è una compartecipazione Anche fondi comunali La compartecipazione Ormai è richiesta sempre Quindi ecco Quei comuni Che hanno più risorse Sono anche più avvantaggiati Però Questo è il punto Dove lo andremo a fare E quindi questa sarà Una delle altre rotatorie Che stiamo progettando Perché poi ne abbiamo altre Che stiamo approntando E progettando E poi anche qui Tempistiche Le tempistiche Il prossimo anno Adesso aspettiamo Il decreto della regione Che ci indica L'annualità Perché finché non c'è Il decreto della regione Non possiamo Accertare in bilancio La nostra somma Le chiedono Quando verrà spostata La farmacia Piagge La farmacia Piagge Questa è un'idea È un grande progetto Che abbiamo Anche in collaborazione Con chi ci gestisce La farmacia Che è ASET SPA Perché quella volta È stata data in concessione Ad ASET E quindi l'idea È di fare questo polo Dove ci sarà la farmacia Il medico E quindi allargando La farmacia La farmacia stessa Ha la possibilità Di dare molti più servizi Perché oggi Il PNR Ce lo dice La farmacia E soprattutto Anche i medici di base Devono essere visti Come un avamposto Di quello che può essere L'ospedale Quindi un modo Per dare dei servizi Veramente in prossimità Se Anche il prossimo anno Potrebbe essere Lo spostamento Bisogna adesso vedere Altri progetti Che abbiamo in cantiere Eccetera Capire che strada Prendono E poi Potrebbe accelerarsi Parecchio questa cosa Bene Abbiamo tanti altri messaggi Per lei Altre foto Da vedere insieme Me le commenteremo Tra poco Perché andiamo in pubblicità Bene Bentornati in diretta Sindaco Parlavamo di rotatori Le chiedono appunto Di fare una rotatoria Alla Fornace E l'altro più precisamente A località Fornace Verso il passo Tre Ponti Perché ci sono stati Numerosi incidenti Sì Conosciamo il problema Anche su quello E uno degli altri punti Su cui stiamo Elaborando Dei progetti Per appunto Cercare di migliorare La sicurezza La sicurezza in queste aree Invece come procede La convenzione Con la polizia locale Di San Costanzo La convenzione L'accordo Che abbiamo sottoscritto Col collega di San Costanzo Procede bene L'intenzione è quella Di continuare A rinnovare Anzi potenziare Ancora di più Questo importante strumento Che vede appunto La collaborazione Di questi due corpi Con il comandante I vigili Sia di questo comune Che del comune Di San Costanzo Quindi sta dando Buoni frutti Abbiamo un'altra telefonata Per lei Buonasera Buonasera Sono Iline Sì Buonasera La sentiamo perfettamente Buonasera Sono di San Lorenzo In campo Buonasera Due domeniche fa Sono venuto qui A Barchi Per ascoltare Un concerto Nell'ambito Della resegna Sugli organi Antichi E lì a Barchi Nella collegiata Di Sant'Ubaldo C'è il bellissimo Ordon del Callido La mia teleparola Di questa sera È quella Di far sì Che uno Un cittadino Qui della valle Parli bene Di Barchi E chiedo quindi Una valorizzazione Ancora notevole Di questo centro Che è bellissimo Poco conosciuto Ma bellissimo Questa città ideale Che è fatta Da Filippo Tersi O progetto da Filippo Tersi Va sicuramente Sponsorizzata Per una fruizione Maggiore di quello che è Noi abbiamo dei tesori Ma spesso volentieri Non li valorizziamo Come valgono Quindi Un invito al sindaco Di andare avanti Di potenziare Quello che è Questo Grande Bellissimo Borgo Non per questo Anche l'Ordo del Callido Aveva il suo valore Grazie Buona serata Grazie a lei Per la telefonata Grazie Sì Beh questo è un invito Che raccolgo Suggerimento che raccogliamo Abbiamo già Presentato Un paio di progetti Al Gall Per la riqualificazione Del borgo Della pavimentazione In particolare Barchi è una bomboniera Tra le tanti Tanti nostri castelli Perché abbiamo sette castelli Chiaramente Barchi Per la sua Per la sua storia Soprattutto per come è stato Costruito Disegnato da Filippo Terzi Ha insomma Una rilevanza notevole Quindi ci state pensando Stessa cosa per Orciano Ci sono anche dei progetti Sì abbiamo già presentato Il progetto Di riqualificazione Di quello che è La parte interna Quindi Le due aree A destra e a sinistra Ci sono questi giardini E questi spazi E quindi sì Perché erano È necessario Anche lì Fare un intervento Insomma Significativo L'abbiamo già presentato Il progetto Che abbiamo già presentato Sicuramente Avrà Delle Modifiche Grazie anche Complici e suggerimenti Che abbiamo Anche ricevuto E quindi verrà Un pochettino Rielaborato La struttura È stata fatta Poi alcuni aggiustamenti Si fanno In corso d'opera Per rendere ancora Più fruibile Il progetto stesso E i lavori Che ci fatti fare Nuova pavimentazione Nuova illuminazione Nuova illuminazione Nuovi spazi Riorganizzare un po' Gli spazi Perché sono un po' Chiaramente disordinati Rispetto a quella Perché chiaramente Oggi il castello Va vissuto anche Sotto un altro punto di vista Cent'anni fa Non avevamo le macchine Oggi sì Quindi Quindi si riqualificano Bisogna un po' Adattare un po' Tante esigenze Che abbiamo In questi giorni Ho letto Sempre sui social Dei complimenti Relativi a un marciapiede Lunghissimo Se la regia Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua E' un marciapiede Dove è stato realizzato? Questo è stato realizzato Tra il municipio di Piagge E il municipio di San Giorgio Quindi sono Questo primo tratto Sono 900 metri Di marciapiede Poi dopo Oggi La parte sotto Le fondazioni Sono state terminate Adesso dovremo fare Anche qui La pavimentazione sopra E poi Adesso la ditta Si è spostata Verso San Giorgio Poi andrà Anche in un'altra zona In località Sacramento Perché stiamo terminando Alla fine Complessivamente Sommando i tre tratti Parliamo di Un chilometro e 600 metri Di marciapiede Che si snoda lungo La SP16 La provinciale Sì è un'opera importante Anche qui è un'opera Di sicurezza stradale È un'opera che serve Perché chiaramente oggi Molto più di ieri Le persone vanno a spasso Camminano Tempo libero Quindi natura Sport Attività fisica E servono queste infrastrutture E poi Aiutano anche A rallentare un po' Perché chiaramente Prima non c'era niente Oggi C'è qualcosa Qualche infrastruttura Quindi Chi passa Poi lì verrà fatta Tutta la nuova illuminazione pubblica LED Quindi un'opera importante Anche questa Fatte È progettata internamente Dal nostro ufficio tecnico Quindi Anche lì riusciamo a essere veloci E anche ad avere dei risparmi Andiamo avanti Perché ne abbiamo altre Di fotografie Questi sono i lavori Del marciapiede A Fornace L'ultimo tratto Che collega il monumento Con il marciapiede Che va giù Fino alla piazza Adesso non è così Adesso non è così Perché l'abbiamo terminato Manca la ringhiera Che viene Insomma Stiamo preparando E affidando In questi giorni Insieme all'altra parte Di ringhiera Uguale Quasi 100 metri Di ringhiera Che metterà in protezione Il marciapiede Dall'altra parte Ok Questi sono altri tratti D'asfalto Qui siamo a San Giorgio Agli asfalti Questo è il castello di Orciano Il museo Il museo della corda La parte esterna Che abbiamo risistemato La necessità di essere Quindi ritinteggiato Ho fatto un nuovo Intonaco Sotto Traspirante Per sistemare Come era prima Sempre fatto dove è possibile Anche avvalendoci Di imprese locali Quindi anche per Aiutare Stimolare Per lasciare Le risorse sul territorio Certo Abbiamo altre foto? Sì Questo è sempre Il marciapiede di Fornace Ultimo tratto E sono terminate Andiamo avanti Con i messaggi Le chiedono intanto C'è arrivata una fotografia Se il nuovo centro Del riuso È già operativo Il centro del riuso È terminato Dobbiamo fare Alcuni aggiustamenti fuori Perché chiaramente La parte strutturale La casetta è pronta Solo dobbiamo sistemare Esternamente l'area E poi si è pronto Per essere utilizzato E questo fa parte Come dicevo All'inizio Della trasmissione Di quel progetto Di diventare Sempre più autosufficienti Possibili Ok Ci segnalano Un gioco rotto Ma adesso Abbiamo chiesto dove Perché ormai È difficile Poi capire Interpretare Il marciapiede di Barchi Quando verrà aggiustato? Il marciapiede di Barchi Se il prossimo consiglio Approviamo i fondi Poi facciamo il progetto Se ci aiuta il tempo Per prima di Natale Il marciapiede è aggiustato Abbiamo delle foto Relative anche Alla pista polivalente Sì Questa l'abbiamo inaugurata Quest'estate La pista polivalente A San Giorgio Che è stata ristrutturata Ha fatto una recinzione nuova E una nuova Pavimentazione al Quarzo E quella è l'inaugurazione Con il giocatore Con Eraldo Pecci E un altro giocatore Di Serie A Dei nostri Nato a Piaggi Quindi di Terra Roveresca E Canestrali Roberto Altro fiore all'occhiello Invece è il centro di salute A Modio Questo sì Questo è veramente Un fiore all'occhiello Che abbiamo deciso Di intitolare A Carlo Amodio Che è un dottore Che è partito Da Mondavio Quando c'era l'ospedale Quindi ha prestato L'attività In tutta la nostra comunità E oltre Questa è la vedova La moglie E quindi qui è un centro Dove Gestito dalla cooperativa Articolo 32 E dalla fondazione Articolo 32 Quindi ci sono Tutte quelle attività Speculari A quelle che vengono fatte Giù al centro salute A Ponte degli Alberi Quindi Ambulatori dei medici Possibilità di diagnostica E a breve Come dicevo prima Spero di fare Questo regalo di Natale Alla comunità Anche attivare l'ambulanza Perché poi viene posizionata lì Ed è fondamentale Il gioco per bambini Qual è? Che prendiamo nota Alla pista Quale? Ho detto Magari il sindaco Conoscendo bene il suo territorio C'è un luogo Insomma Detto anche alla pista Invece no Sarà San Giorgio Bisogna che ci dice Esattamente dove Avete acquistato Uno scuola bus elettrico Abbiamo acquistato Uno scuola bus elettrico Che deve Eserci consegnato 31 posti Esatto Invece ne abbiamo Acquistato uno più grande Tradizionale Quello è già arrivato E sta girando Nel nostro territorio E spero anche qui a breve Per la fine dell'anno Possa arrivare In quello elettrico Anche qui Molte volte Ci si allungano i tempi Perché oggi Complice La mancanza di materiale Specialmente Quelli elettronici Porta ad allungare i tempi Però è un problema Che abbiamo tutti Invece le chiedono La copertura della piscina Quando verrà terminata Allora La copertura della piscina Anche lì abbiamo dovuto Trovare delle soluzioni Per far fronte Al rincaro dei materiali Abbiamo trovato una soluzione Anche qui avvalendoci In buona parte Anche dell'aiuto Di ditte locali E quindi L'anno nuovo Se non prima Adesso vediamo Ripartiranno i lavori Che sono una parte Di lavori Sono fondazioni E poi dopo La copertura sopra Che verrà posizionata Che quello è un progetto Che va avanti Dove abbiamo avuto Un contributo Di 500 mila euro Adesso la mostriamo Anche a casa La regia Ci propone Questa foto Di gruppo Questa è la fondazione Che ci ha dato Un contributo Di diverse migliaia Di euro A sostegno Appunto Dei poveri E delle persone In difficoltà Nel territorio Qui c'è il presidente De Martino Il sindaco Poi c'è La consigliera Vitali E Alfredo Sadori Che è il presidente Della cooperativa Articolo 32 Perché per la gestione E l'erogazione Di questo contributo Ci avvaliamo Della loro Loro intermediazione Per essere più facili Più veloci E più rapidi Adesso Visto che ci avviciniamo Agli ultimi mesi Del suo mandato Intanto le chiedo Che cosa farà poi Noi Insieme al gruppo Ci ripresenteremo Il nostro programma La nostra squadra Sicuramente avremo Degli innesti nuovi Eccetera Perché abbiamo già Iniziato un percorso E ci piacerebbe Portarlo a termine Così come tutti i progetti Che è stato Impostato in questi anni Perché per esempio Il PNRR Finanzia Anche nei comuni Perché chiaramente Il presupposto È che l'Ata Adesso non entriamo Nel merito dell'Ata Perché se no Arriviamo a mezzanotte Sicuro Dopo divento anche noioso Perché lo so Qualche volta Me lo dico da solo E chiedo il PNR Da fondi Anche ai comuni Per la realizzazione Di impianti Quindi impianti pubblici In questo caso Per gestite da lente Per lo smaltimento Il recupero Delle frazioni Dei rifiuti Quindi la nostra idea È che Terra Roveresca Deve diventare Il più autosufficiente Possibile Già in parte lo siamo Ma ancora vogliamo Continuare Su questa strada Vi chiedono Allora La piazza davanti Al comune di San Giorgio È dissestata La gente poi Prova a cadere Non spero che abbia scritto male Quando verrà giustata? La piazza Più che dissestata Ci sono Non dei problemi Dei rattoppi Che sono stati fatti A seguito Dei lavori Per l'apposizionamento Della fibra ottica Quindi poi ci sarà Il ripristino definitivo Però anche su quello Che era un progetto Che da lungo tempo Abbiamo in mente E piano piano Stiamo cercando Di fargli vedere la luce Quindi una nuova piazza Presto La gente è caduta Presto vedrete Il rendering Se qualcuno è caduto Ce lo può segnalare Che poi Al di là che Sappiamo dove è caduta Riusciamo a intervenire In maniera più efficace Però Così poi dopo Ci rapportiamo Con chi Il problema L'ha L'ha creato Virginito Qualche illuminazione Ci vorrebbe Soprattutto per i più anziani Il cimitero Le luci Non ci sono E in alcuni punti Sicuramente Qualche lampadina È fulminata Che va cambiata Parliamo adesso Con delle iniziative Del Natale Chiudiamo con questo Argomento Quali sono Qual è il programma Che cosa prevedete Allora quella più vicina Adesso a breve So che ci sarà anche La riunione Dell'assemblea Delle associazioni Quindi quello è un luogo Dove tutte le associazioni Del comune Parlano Organizzano Quella che già so È l'8 di dicembre Ci sarà l'accensione Al Lago delle Rose A Barchi Dell'albero E quest'anno Ci sarà Visto che La morsa un po' Del covid Si è allentata Ma sempre dobbiamo Continuare Col buon senso Ad andare avanti Perché se no Torniamo come prima Speriamo di no E ci sarà anche La banda Garavini Di terre roveresche E poi dopo Sicuramente Le nostre associazioni Sparse sul territorio Faranno tante altre attività Quella di Barchi È organizzata Dall'associazione Siforistrada Poi ovviamente Gli abeti No? Gli abeti È quello classico Stiamo installando In questi giorni La classica Illuminazione Per le feste Perché chiaramente Un po' di luce Che crea Quell'atmosfera Che serve Assolutamente sì Un altro messaggio Per lei Sindaco Quando si occuperà Del decoro urbano A Villa del Monte Eh lo so In questi giorni Come ho avuto modo Di parlare Con delle persone Lì abbiamo Dei casi Anche molto vecchi In Cancraniti Come Passatemi questo termine Abbiamo richiesto Chiaramente un sopralluogo Ad Asur E poi partiranno Alle ordinanze Come piano piano Facciamo in altri contesti Bene Quindi insomma Tanto lavoro Da fare I lavori sono tanti Però Non ci perdiamo D'animo Speriamo di riaverla Nei nostri studi Nei prossimi mesi Visto che poi Dopo inizierà La campagna elettorale Quindi sarà impegnato Anche su quel fronte Quando chiamate Insomma Terrovereschi Risponde Perché questa è un'occasione Perché tantissime persone Seguono Fanno tv Quindi È un modo per Passare i messaggi Le informazioni Eccetera Assolutamente I cittadini saranno sicuramente Anche ben contenti Di capire che cosa succederà Appunto Nella loro città Nel loro quartiere Grazie anche a Cristiana Guerra Riccardo Sora E regia Sindaco Grazie di nuovo Per essere stato Nei nostri studi Grazie a voi Per questa possibilità E buona serata A tutti voi Arrivederci